prendo da botto un talon e vediamo se riesco a usare le mie cazzo di bombe di merda di chi c'è sia esponata la base dietro a me cosa fare vai mi vado a fare caccia saluto il cazzo e io anche l'idea è se scendo appunto delle bombe vado a portarci le mie cacce dovevo togliere lo smorzamento che veramente non si riesce c'è nella scala dinamica i bersagli porca puttana io adesso ho sganciato le bombe con il comune interbalistico ma come mi sta agganciando ma come mi sta agganciando con la rvn e si io vado a una soterno sperando con la rvn con la rvn